bentornato in questo nuovo video di italia rimborso prima di cominciare ti ricordo che i nostri servizi sono totalmente gratuiti per i passeggeri che hanno subito un disservizio aereo sul volo o sul bagaglio lasciaci un like se questo video ti è tornato utile in questo video tratteremo il tema del rimborso austrian airlines al fine di fare ottenere a passeggero oltre che l'assistenza anche la compensazione pecuniaria i disservizi aerei per i quali è legittimo presentare un reclamo austrian airlines per ottenere il rimborso o la compensazione pecuniaria sono volo cancellato vol ritardo oltre tre ore over booking ritardo danneggiamento bagaglio smarrito ma adesso andiamo a vedere a quanto ammontano la compensazione pecuniaria ed il rimborso per disagi derivati da voli aerei austrian airlines l'importo erogato a titolo di rimborso o compensazione pecuniaria va da 250 a 600 euro in base al chilometraggio della tratta aerea oggetto del disagio tuttavia qualora è sostenuto costi extra costretto dalla cancellazione o dallo smarrimento del bagaglio austrian airlines anche quelli possono essere soggetti al risarcimento gli unici casi in cui la compagnia aerea austriaca austrian airlines non è tenuta a provvedere al rimborso sono quelle circostanze in cui le cause del disagio non sono direttamente attribuibili alla compagnia stessa tra i casi in cui in ospetta abbiamo condizioni meta avverse bird strike traffico aereo compili quindi form di italia rimborso in appena 30 secondi non ci credi guarda pure portiamo quindi l'esempio di un volo presente nei nostri sistemi che sia lavorabile inserisci il nome e cognome ed il tipo di servizio passi quindi alla segnalazione del tuo indirizzo mail e di numero di volo che trovi facilmente nella carta di imbarco è importante lasciare anche un numero di telefono dal quale italia rimborso ti potrà facilmente contattare la data del volo una volta compilato e forma riceverai la mail con tutta la documentazione richiesta da italia rimborso per ottenere il tuo risarcimento astrone airlines italia rimborso avvierà la tua pratica e riceverai il risarcimento e il riservizio astrone airlines italia rimborso però ha pensato proprio a tutto una volta avviata la pratica potrà vedere il suo tracciamento proprio come accade con una spedizione basta andare nella home page del sito www.italiarimborso.it scorrere nella home ed inserire il numero di pratica che ti viene inviato nella mail di italia rimborso lì vedrai lo stato di avanzamento della tua pratica avviata con italia rimborso che ti aggiornerà costantemente anche con apposite mail ti ricordiamo di continuare a volare e viaggiare in giro per il mondo ma adesso sarai più cosciente dei tuoi diritti ricordiamo che è possibile ottenere la compensazione pecuniaria anche direttamente con la compagnia aerea siamo giunti al termine di questo altro nuovo video tutorial se è stato di tuo gradimento ti chiediamo di iscriverti al canale youtube di italia rimborso per rimanere costantemente aggiornato ti ricordiamo che puoi usufruire dei nostri servizi gratuiti visitando il sito www.italiarimborso.it puoi scrivere alla mail info chiocciola italiarimborso.it o inviare un whatsapp al 342 10 31 47 7 è tutto per oggi al prossimo video ciao